E' l'atleta in maglia Olimpia Valdarnese, Gabriele Benedetti, che conquista la 65esima edizione della Coppa Giancarlo Bonechi, grazie ad un allungo operato nell'ultimo tratto di salita, poco prima del GPM. Terza vittoria stagionale quindi per Benedetti e grande condizione di forma confermata nella gara di massa e cozzile, che ha fatto registrare nell'occasione la media record pari a 40,971 km orari. A nulla è valso il tardivo inseguimento da parte di Davide Martini dell'Officina Alberti Valdillasi, che dopo aver lungamente rincorso il fuggitivo ha dovuto arrendersi alla rimonta del gruppo inseguitore. Ecco Gabriele Benedetti tutto solo sul lungo rettilino d'arrivo a raccogliere il sentito applauso del numeroso pubblico presente. Terza vittoria stagionale per il portacolori della formazione Olimpia Valdarnese, che corona nel migliore dei modi una buona prestazione di squadra. Volata del gruppo degli inseguitori con medaglia d'argento per Davide Martini, che nel frattempo ha saputo recuperare lo sforzo profuso nell'inseguimento. Medaglia di bronzo per Leonardo Brunetti. Allora, Leonardo Brunetti un terzo posto buono direi in questa gara. Sì, sì, sicuramente, perché a parte domenica scorsa, giovedì, che avevo fatto quarto, poi era un periodo che non facevo piazzamenti e sono contento. Non c'è stato niente da fare per riprendere Benedetti oggi? Eh no, in salita andava più forte, complimenti a lui. Secondo arrivato Davide Martini sia stato quello che fino all'ultimo è tentato dopo la salita di tenere Benedetti, ma non c'è stato niente da fare? Eh sì, perché sopra la salita, quando ha scollinato, ha preso una cinquantina di metri da me, poi ho mantenuto il distacco di circa un chilometro da lui per quasi metà del percorso, solo che ho rinunciato perché ho visto che il distacco continuava ad aumentare e allora ho chiesto al mio compagno di tirarmi la volata e infine siamo riusciti a concludere il secondo posto. Un buon secondo posto, direi un'ottima stagione la tua, già due vittorie all'attivo. Eh sì, solo che erano due domeniche che non facevo più niente neanche il piazzamento e quest'oggi ci stava un bel secondo posto. Chiudiamo col trionfatore veramente di questa giornata, grandissima cavalcata solitaria, credo che un successo così valga una stagione. Sì, veramente, è stata una bellissima gara. La salita era molto dura, abbiamo fatto la differenza, è scattato Carpene, il compagno di squadra del secondo e sono riuscito a rientrargli dietro. Poi in cima alla salita ho provato, ho allungato in discesa e ho mantenuto per tanto tempo 10 metri dal secondo, però poi lui ha mollato e io ho continuato, sono arrivato. Senti, quando hai avuto la certezza che ormai i giochi fossero fatti? Quando ho visto i miei allenatori che mi diceva di dare tutto, che arrivava all'arrivo, io gli ho dato retta e infatti sono arrivato. Allora dicevo, terza vittoria stagionale, a chi lo vuoi dedicare questo successo? Io a tutti i miei compagni di squadra, hanno sentito un gruppo compatto fino alla salita, ai miei allenatori, ai miei genitori, insomma a tutto lo staff. www.pianetaciclismo.it Il sito che ti racconta il tuo sport preferito. www.pianetaciclismo.it Il ciclismo, come non l'avete mai visto.